Hello! Hello! My name is Tonya and now I'm your English teacher. Hello! Oggi vi saluto con questa bandellina UK flag di Unijack, con il mio amico Darnasher London, guardate siamo a Londra, and Santa Claus Ecco, oggi mi fanno compagnia un po' di, diciamo, di amici, ecco, e di cose, di oggetti che sono un po' legati a me, al mio percorso e quindi siamo arrivati a un nuovo appuntamento con l'avventura, la mia avventura in Asborn e il mio perché, ecco, e oggi mi vorrei soffermare sull'autostima Ecco, molto spesso quando si è più piccoli, più giovani, si inizia, diciamo, l'università si hanno tantissimi sogni, quello di magari andare lontano, conoscere nuove persone e nuove culture e, ecco, io tutto questo l'ho fatto e poi si sogna comunque un lavoro e, ecco, sono stata molto fortunata perché dopo la laurea ho iniziato subito a lavorare e ho fatto quello che mi piaceva, quindi ho fatto un lavoro che mi permetteva di utilizzare le lingue, l'inglese e il francese che io avevo studiato all'università e ho lavorato con i turisti, ho lavorato nel commerciale, quindi contatti con l'estero e poi anche nell'insegnamento, quindi nella formazione come docente e quindi ho iniziato il mio percorso con i piccolini e da quando sono nati i miei bambini quindi ho voluto approfondire proprio il tema dell'apprendimento nella prima infanzia Ecco, tutto questo per arrivare a un punto quando si diventa più grandi, quando si diventa genitori molto spesso mettiamo un po' da parte quello che noi siamo e quello che sono i nostri sogni e non possiamo più andare a Londra o nel Regno Unito, in Arizona dove sono stata io e ecco, questo viaggio Santa Claus Journey lo dobbiamo fare un po' nella nostra mente e però devo dire che nel mio caso ho recuperato, nel senso che nonostante un po' di stand by quindi con i bambini, poi dopo mi hanno dato loro stessi una carica a rimettermi in cammino e mi hanno dato proprio loro degli input, degli stimoli a ricreare a creare qualcosa che potesse avere dei benefici per loro, per la nostra famiglia ma anche per gli altri ed è quello che mi piace di più quindi offrire un servizio, un servizio alle famiglie, alle scuole e a chi, insomma, è interessato al valore della lettura e della lingua inglese e con questo voglio salutarvi Bye bye, see you next time!